Un 11 di spessore e di carattere. In campo domenica dovranno scendere 11 leoni, per meglio dire 11 lupi, allo scopo di portare a casa i tre punti e poi, con un minimo di dite incrociate, guardare anche in casa d'altri. La Sardegna sarà l'ombelico del mondo calcistico in un campionato che suonerà la sua penultima sinfonia. Contro la Torres bisognerà mettere in campo valore e carattere per interpretare nel modo migliore un match importantissimo. Ed allora Buccaro dovrebbe riproporre il suo classico 4-4-2, agevolato dall'abbondanza. Tutti arruolabili, tranne Rizzo, anche Carbonelli, reduce dal lungo periodo di stop, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati. Viscovo difenderà i pali, mentre la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Betti sulla sinistra e Parisi sulla destra, con la coppia di centrali Morero e Dionisi. A centrocampo da Dalt e Tribuzzi sulle fasce di Paolo Antonio e Matute a dominare il centrocampo. In avanti Devena e Sforzini con Alphageme, reduce da qualche acciacco, pronto a subentrare a partite in corso. Una sfida interessante per varie ragioni, sia perché c'è da rincorrere la corazzata Lanusei, fermo ormai solo a due lunghezze. In secondo luogo c'è da battere il record di nove vittorie consecutive, che fu di mister Salvatore Marra. Ed inoltre bisognerebbe sbloccare tanto Devena quanto Alphageme, reduci da un periodo di magra fin troppo lungo.